Ciao da MotolookTV, il canale di Youtube che è sempre in moto per te, io sono Michele e questo è il nuovo Caber Ghost, l'urban jet realizzato da Caber per il 2017. Casco completamente nuovo che si differenzia dalla concorrenza per la qualità dei suoi materiali e per la particolare realizzazione del movimento del mentone. Iniziamo però a parlare della calotta. Calotta completamente realizzata in carbonio, kevlar e aramide, disponibile in due misure esterne. Calotta molto piccola, compatta, proporzionata, non ci fa la testa grande, quindi quando andiamo sulla nostra moto abbiamo un casco compatto, estremamente leggero, casco che pesa meno di un chilo. Casco di altissima qualità perché è realizzato completamente in Italia. Elementi che vanno a ricoprire il movimento della mentoniera e questo elemento posteriore che ci va a ricordare l'anima vintage, l'anima classic di questo casco. Casco Ghost perché? Perché è un casco assolutamente particolare. Abbiamo la possibilità di andare a aprire la mentoniera, a differenza della concorrenza, con una sola mano. Spingiamo al centro, la mentoniera sale e si va a posizionare in parte alta. Per abbassarla, anche qui semplicissimo, spingiamo, lei scende e poi si va a riposizionare. Viene tirata all'interno del meccanismo, quindi un sistema assolutamente efficace. Mentoniera che può essere modulabile. Possiamo dividere l'occhiale dalla parte bassa della mentoniera e utilizzare solo l'occhiale, quindi trasformarlo in un jet ancora più estivo. Occhiale a sua volta personalizzabile. Esistono vari tipi di plessiglass differenti, quindi possibilità di farlo trasformare da bianco trasparente a fumè oppure specchiato. Quindi possiamo modificare il look del casco e anche la nostra visibilità. Visibilità, elemento molto importante. Questi tipi di caschi sono soggetti a un problema. A volte si appanna alla visiera facilmente. Qui troviamo montata di serie la Pinlock Max Vision. La Pinlock è la pellicola antiappannante che si va a inserire all'interno della visiera e crea un intercapedine d'aria. In questo caso nella versione Max Vision. Quindi visiera completa. Tutta la superficie della visiera è gestita da questa pellicola, in modo che tutta la superficie non si vada a pannare e la troviamo di serie montata all'interno del casco. Riapriamo il casco e andiamo a vedere le finiture interne. Intanto un altro elemento personalizzabile della mentoniera, ovvero il bordo in spugna che va a circondare a livello perimetrale l'occhiale, può essere personalizzato con tre spessori diversi. Quindi possiamo avere un occhiale che va ad aderire in tre modi diversi al nostro viso in base alla nostra conformazione. Interni completamente estraibili e lavabili in tessuto sanitizzato, antiallergico, antiudore e antisudore. Chiusura micrometrica. Tutto questo elemento che va a circondare gli interni è realizzato in ecopelle, quindi quando andremo ad appoggiare il casco non avremo problemi perché è sicuramente robusta questa zona. E due scarichi posteriori che ci aiutano a portare fuori più velocemente l'aria calda e umida dal casco. Casco moderno, casco 100% Bluetooth ready, quindi potremo andare a inserire all'interno del casco qualsiasi Bluetooth aftermarket perché abbiamo lo spazio per andare a inserire tranquillamente gli auricolari all'interno e poi fare passare un microfono a braccetto nella parte anteriore a sinistra. Molto bella la finitura esterna di questa guarnizione perimetrale che circonda il bordo della calotta. Completamente realizzata in gomma, ha questi cinque rivetti annegati nella parte anteriore, veramente una bella finitura, molto molto elegante. Ancora una panoramica sui volumi del casco e a questo punto tocca a voi. Se la recensione vi è piaciuta o semplicemente volete chiacchierare di questo casco, scendete sotto, andate nei commenti e fateci sapere la vostra opinione che per noi è assolutamente importante. E a questo punto ancora di più vi ricordo, provate, provate, provate la qualità dei prodotti Calberg ma soprattutto venite a provarla nel nostro punto vendita Motolook di Voghera. Ciao e alla prossima recensione! Grazie a tutti!